Siamo qui con Ilaria Speranza del filo a rete, vittoria 3 a 2, soffertissima ma godutissima al tiebreak, è stata una partita molto equilibrata soprattutto dal terzo set in avanti, i primi che dà molto morale per il prossimo momento del campionato. Sì, aspettiamo ancora i 3 punti pieni che non arrivano da un po', comunque ci stiamo allenando tanto e speriamo sempre di migliorare e di vincere finalmente 3 punti interi. Insomma si è stata devastante sotto rete, è stato scorciato anche alcuni muri molto importanti, è la seconda vittoria di fine in casa e quindi state immaginando dei punti importanti qua sul vostro campionato. Sì, ci troviamo bene e purtroppo non possiamo fare affidamento su un grande tifo, però noi cerchiamo di dare il massimo sia in casa che fuori e speriamo appunto di iniziare a vincere anche in trasferta. Secondo te dove potete arrivare a finire questi giorni? Noi speriamo metà alta della classifica, come l'anno scorso di fatto. Va bene, grazie mille. Grazie, a te. A presto. Grazie a tutti. Yeah. Rivendario tosì attuali. Arrivi.